Salve a tutti ragazzi, qui Antonio Cianci, raccata film per voi con una nuova puntata di commenti shock che faccio fatica anche a pronunciarmi a riguardo la rubrica più amata del mio canale. In questo periodo di emergenza e contenimento bisogna ridere, bisogna ridere sguagliatamente, solo che qui chi ci soffrirà malamente sarò io, chi ci soffrirà più di tutti e mi cimenterò in commenti mirabolanti capaci di rivoltarmi le budella. Correva l'anno 2006, abbiamo un Gullermone del Toro che sforna un film allucinante, la vetta della sua carriera è Il labirinto del fauno, un fantasy che ha definito la nostra formazione cinematografica, un bel punto di svolta in questo genere con un mondo che è in bilico fra fantasia che diviene realtà e realtà storica che diventa un incubo senza fine, ma l'incubo senza fine può essere scolpito e può essere modellato anche con i commenti shock che sono pronti a smontarlo. Cominciamo con un intervento fugace, così di riscaldamento, così così, non mi è piaciuto un gran che sto film, illuminaci sulla questione, è girato bene, le scene d'effetto ce ne sono anche in abbondanza, effetto non so cosa ti sta riferendo alla violenza esplicita mostrata senza filtri in un contesto storico dove la bugia, il dolore, il sentimento del disprezzo vengono fortemente a galla, spero di sì, ma durante la visione mi è sempre rimasto addosso un non so che che non mi convinceva per nulla, ma io cercherò da adesso in poi di utilizzare questa espressione per definire al meglio un film che non mi ha convinto o mi ha convinto in parte, mi è rimasto addosso un non so che che non mi convinceva per nulla, che scioglilingua, ma per favore un filmetto non mi è piaciuto per nulla, non sapevo se stavo guardando un horror, un film di guerra o un fantasy, perché un film deve appartenere a un solo e unico genere senza subire influenze di alcun tipo, è giusto, forse tutto questo mescolato male, cosa cosa mi tocca? Poi il fauno, ma chi cazzo è il fauno? Cosa mi rappresenta? Cosa c'entra? Non ha senso all'interno del film, del toro, su, salvo solo la prima mezz'ora poi che palle, incredibile, incredibile, come si fa a non prestare attenzione di fronte a un film che riesce a bilanciare dramma della guerra e fantasia sfrenata da parte della protagonista Ophelia, fantasia a sua volta condizionata da tutto ciò che le sta attorno, wow! Spacciato per film horror, ok parti con certe aspettative però dovresti valutarlo oggettivamente il film a fine visione, spacciato per horror andai a vederlo, poi mi trovai di fronte un film con una bambina, caspita allora un bel problema, un mostro pianta, cosa si sarà fumato al regista a questo punto, fiamme per bambini, il dramma della guerra, un mischione che non si doveva fare, a chi ama avere la testa fra le nuvole può anche piacere, testa fra le nuvole di fronte al labirinto del fauno che risulta pesantino da digerire anche solo visivamente parlando, agli altri può sembrare una grande boiata, mi dovresti far capire perché ritenerlo tale, una boiata così gratuitamente, fra l'altro il film, occhio qua, viene dalla Spagna dove anche si fanno le cazzate più grandi tra cui la corrida, questa pratica che deve essere abolita, che non si può tollerare ma applicata qui nel labirinto del fauno dove viene mostrata la corrida, non capisco, tu la odi e quindi tutto ciò che viene prodotto dalla Spagna è da dimenticare archiviare, ok caspita siete così fantasiosi nella stesura dei commenti che veramente mi sorprendete, c'è da riservare una critica giustamente al copione come ha riportato benissimo questo utente, non ci ho capito niente, è tutto abbozzato, ci sono due trame che si accostano, viaggiano in parallelo ma non riesco a correlarle fra loro, è da vedere se non si ha niente di meglio da fare, come è possibile non riuscire a connettere le due linee, le due storyline principali ma comunque con il film rouge che è Ophelia, che spera in un mondo migliore, che spera che la guerra civile raggiunga una svolta positiva ma probabilmente non ci sarà mai, è questo il cuore del film, è questo il senso del labirinto del fauno, non è che campato per aria con un copione così improvvisato, ma di che cosa stiamo parlando? Si tratta di un film sovrastimato, non bisognerebbe attribuirli così tanto valore, ce lo ricordano qui sotto, film sopravvalutato, carino, ino, ino, io a un certo punto della mia vita vorrei scordarmi di tutto ciò che ho imparato nei riguardi della formazione cinematografiche e della critica in generale per adottare il loro linguaggio, è talmente affascinante e magnetico questo loro modo di esprimersi che carino, ino, ino, negli intenti ma che non decolla mai, scenografie e costumi indegni, ancora la parentesi mi piace questo utilizzo della parentesi, a modi colpi di frusta durante la lettura, costumi indegni di un film di serie z con tutto il rispetto, ma la recitazione poi latita anche dall'inizio alla fine e non sono stato per niente coinvolto dall'esecuzione della trama, bruttino, non si salva nulla, siete d'accordo con lui? C'è qualcosa che non ci torna, non ci va a genio in questa duologia informale di film fantastici, buttiamoci dentro anche la spina del diavolo, questi film fantastici diretti da Del Toro, lui che non possiamo definirlo un maestro e non possiamo definirlo un intenditore di fantasy, comunque riportiamo questi tre punti che non abbiamo digerito sotto, tre punti ben distinti, uno, è una storia fantasy con un inizio e una fine inserita in un film di guerriglia, come se la cosa, come se questo fosse un difetto madornale che vada a fossare la pellicola, perché non si può adottare una scelta stilistica così particolare, anche nel trattamento dei contenuti, amalgamare il fantasy con un contesto bellico crudele e spietato, no, secondo punto, sono le palle che mi sono venute a vedere questo film, belle grosse addirittura, perché hai inserito questo punto non c'entra niente con ciò che hai appena descritto, terzo e ultimo punto, vi sono alcune scene completamente senza senso e non venitemi a dire che è un fantasy e deve essere così, se l'hai riportato nel primo punto e ti stai contraddicendo da solo, non so che dirti, film decisamente mediocre per non dire pessimo, dal mediocre e pessimo il passo è breve, che vuole mescolare diversi generi in un periodo storico ben preciso, fin qua nulla di male, come abbiamo già detto se l'idea di base è interessante, lo sviluppo è decisamente disarmante, aspetta fammi capire come è strutturata una trama, c'è un soggetto di base, un'idea iniziale perfetto, poi uno svolgimento e sviluppo è un arco conclusivo, atto finale, perfetto, ok, utilizziamo questi termini, utilizziamoli un po' alla cazzo di gare e poi abbiamo idea, ok, sviluppo disarmante, così, il film parte in sordina, non decolla mai, quante volte lo sarete visti, il labirinto del fauno, come fa a non decollare, la storia di questa fantomatica, magari, esistente, principessa, moana, figlia del re del mondo sotterraneo, fele che si interroga sulla sua vera identità in un contesto che è riuscita a modellare sfuggendo da una condizione di intensa e acuta sofferenza, non decolla, le rappresentazioni dei mostri sono al limite del ridicolo, davvero malfatti, mal congegnati e mal impersonali, trama inutilmente elaborata, scarso il grado di coinvolgimento dello spettatore nella storia, perché si immedesima negli spettatori che vanno a seguire il film, non si fa un'idea propria, un film come tanti non da buttare ma neanche da ricordare, probabilmente non l'ha visto neanche tutto, come fa ad arrivare a queste conclusioni, ma ve lo spiegate? Una favola dark messa lì senza cognizione di causa, con due storie parallele messe lì solo per riempire il film. Ok, bene. Le scelte fotografiche di Guglielmo Navarro, la predominanza di colori caldi che oscillano fra il giallo e l'arancione nel mondo partorito da Ophelia e la sovrabbondanza invece di colori glaciali, spenti una volta che si raggiunge la terraferma, una volta che riemergiamo e ci dobbiamo confrontare con gli orrori della guerra civile. Movimenti di camera accentuati, il contrasto visivo almeno, coprite un occhio, un occhio e con l'altro utilizzatelo bene per ammirare squarci di rara bellezza contrapposta alla crudeltà, almeno quello, per favore. Sinceramente l'ho trovato orribile, inguardabile, banale, fastidioso nella sua superficialità di associazioni, non è nemmeno originale, si vede che è un film pensato per vendere, commerciale, fino al collasso. Vorrei svenire in questo istante, non ce la faccio più. Antonio Cianci, il raccata film ha finito, wow, come sono riuscito a sopravvivere a questa puntata? Ditemelo voi, intervenite sotto nei commenti, aiutatemi, sostenetemi, come fate da sempre, supportatemi. Commenti sciocche sul labirinto del fauno? Si è concluso, Antonio Cianci, il raccata film qui per voi, che commerciale fino al collasso, ma si può. Ok, ci vediamo sotto nei commenti, un saluto ragazzi e ci vediamo alla prossima puntata dei commenti sciocche, ciao, alla prossima!